I carabinieri dell'Aquila hanno arrestato un uomo per stalking a Cagnana-Miterno, il responsabile, un romeno classe 72. Si era conosciuto con la convivente su Facebook. Durante la convivenza poi l'uomo ha cambiato per atteggiamento nei confronti della donna, classe 73. La vittima, dopo numerosi episodi, ha trovato finalmente il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Cagnana-Miterno, che oltre a raccoglierne le dichiarazioni, hanno avviato una certosina attività investigativa, guadagnandosi la fiducia della vittima. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando i due hanno iniziato una relazione, culminata poi con la convivenza. Dopo qualche settimana l'arrestato ha cominciato però ad avere atteggiamenti morbosi e persecutori, oltre ad avere comportamenti violenti, come in un caso in cui, in preda di un raptus di gelosia, ha devastato addirittura l'abitazione della donna. Le condotte dell'uomo però non si sono fermate, neanche quando l'ex compagna ha deciso di costringerlo ad andare via di casa. Ha continuato con molestie e minacce, introducendosi in un'occasione anche a casa sua furtivamente. La vittima, proprio dopo quest'ennesimo episodio, si è convinta a rivolgersi ai carabinieri che lo hanno arrestato, mettendo fine ad un incubo.